ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale sono titus in fabula siamo tornati qui a ultima spiaggia con aloe in burning shores allora oggi cerchiamo di fare il video un po più breve di quello dell'ultima volta ma andiamo a fare la missione secondaria visto che non siamo troppo lontani allora peraltro è divisa in due abbiamo raggiungi l'isola a sud ovest che penso sia questa anche se vabbè è a nord delle altre isole ma va bene lo stesso e poi abbiamo segui segnali di fumo che ho già attivato quindi montiamo sulla barca andiamo da questo lato cercando di non farci sparare da quello a fare la tra l'altro è piena notte quindi si vede poco e niente allora allora seguiamo la costa vediamo se riusciamo ad arrivare senza troppi problemi ecco ci sono cose dappertutto però rimaniamo concentrati foraterra sotto di noi e no non l'avevo visto che era sotto di noi adesso cerchiamo di macchine alfa in realtà l'abbiamo già trovate nel gioco base essenzialmente qua di stelle se ne vedono ancora un sacco qua ci sono le boe la tipa ha detto che oltre le boe ci sparano ma anche se andiamo da questo lato allora la torre in teoria è eccola non so magari se guardiamo dove stiamo andando allora allora il segnale di fumo è cui spartiamo ma che tuffa bomba ci sono delle macchine allora peraltro è un razziatore alfa urca poi sotto c'è una ragosta penso che dobbiamo eliminarlo ora come si faceva anzi no aspettate aspettate facciamo con questo ok se stesse fermo non segue sempre lo stesso percorso infatti ci ha visto ok dovrebbe essersi staccato ce n'è un altro è bravo facciamo scambio aspetta io vado a prendere l'arma l'avevamo già visto prima allora addirittura dove è andato il i razziatori ahia noi stiamo facendo assolutamente niente è questione di vita o di morte addirittura senza munizioni come io devo ancora come dicevo dall'altro video rimpratichirmi un attimo ah ci ha preso in pieno però perché hanno no noi cosa fai non ricordo assolutamente niente no tra cui neanche i tasti eh potrebbe essere un problema ah non l'avevo visto arrivare questo cosa? allora no questi dovrebbero essere più potenti allora se la finiamo di cadere eh mo cominciamo da qua brava più su più su brava ancora un po' bravissimo eeehm diciamo che siamo un po' incastrati con le tempistiche però oh sì nel senso che non facciamo in tempo colpirli ma tipo queste? no bomba adesiva questi non li so usare non so perché ce li abbiamo su ma cosa saranno deboli? eh una domanda ma lui è ancora il cannone aspetta eh dammi un secondo che circo no 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 non così eh aspetta eh arriviamo ok questo giro l'avevo visto arrivare ho tirato ma il cannone l'ha perso? no quattro questi sono e allora ecco la difficoltà di questi ce n'è un'altra ma la difficoltà di questo horizon è che le macchine si muovono veramente tanto quindi non fa in tempo fare niente ok bravissima 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 potremmo studiarcelo prima un po' grazie a torre per vedere dove dovremmo colpire ma peraltro noi abbiamo dei simboli là sotto che se non sbaglio abbiamo tipo queste cose qui ma eh faccio ricordare cosa sono ecco meglio meglio se lo dice lei non gli stiamo facendo niente au sti cosi fanno un malecane comunque aiuto se non c'è scoppia in faccia ah non è morto eh sì non è morto ma è arrivato non è arrivato un altro super vita ok sta dicendo esplode aspetta aspetta ah c'è un inseguitore per quello che lì se l'è maledetta allora è lì il problema è grande lui ha preso noi ma noi ah non abbiamo più proprio niente per recuperare la vita aspetta ce n'è più di uno mi sa guardati bene attorno eh mi sto guardando attorno perché non lo vedo lì c'è qualcosa peraltro eccolo mi è andato forse li abbiamo rotto no quello dobbiamo rompere è morto è morto ok eh poteva andare meglio penso proprio di sì bene via libera ora devo raggiungere il quen ok allora bisognava semplicemente eliminare tutti i coda frusta che c'erano non avevo letto a sinistra la cosa bisognava fare e infatti adesso ho buttato giù la la scala mi sono proprio accorto mi scordo mi sono scordato veramente tutto anche che ti dici quello che devi fare il gioco allora rimbobbito potevi buttarmela giù prima la scala però sopravvivrò rocomo ma cosa ci fa una straniera in questo posto una storia lunga ero all'insediamento della tua tribù cerco la spedizione di Enki capisco mi chiamo rocomo era lui quello che ero con il divinatore Enki le macchine ci hanno attaccati su un'isoletta a ovest sono stato costretto a trascinare Enki via da lì ma non siamo andati lontani uno strano turbine ci ha scogliati contro un urbino addosso siamo arrivati qui a stento poi sono arrivate quelle dannate macchine Enki mi ha visto prima di me e mi ha fatto da scudo è morto per via delle ferite poco tempo dopo oh no se Enki è morto dovrei recuperare il suo focus impossibile è caduto in fondo al mare ma noi nuotiamo ma ora che sei qui forse c'è speranza per i miei compagni e ce ne sono altri li ho lasciati su quell'isola ti prego devi aiutarli ma come li hai lasciati su quell'isola farò il possibile ma come faccio con te non posso lasciarti qui non preoccuparti per me mi sono costruito una zattera da qua sopra te ne ho costruito se non stuccheranno altre macchine riuscirò a tornare indietro da solo d'accordo stai attento stai attento roroto rokopo non mi ricordo già come si chiama potrebbero esserci altri superi avevo visto c'era eccolo vai vai io ho salpiamo comunque noi sappiamo notare quindi volendo potremmo trovarlo ci fermiamo qui si c'è c'è qualche animale sopra qualche animale qualche macchina più che altro uccidi le macchine cerca su pesci di raggiungire il relitto della barca di Enki non lo troviamo il relitto della barca di Enki non ci dice dov'è vero no va bene intanto uccidiamo le macchine cosa abbiamo tuffo plano ah macchina nuova un altro opterodattilo una macchina volante di medie dimensioni che può emergersi fino a grande profondità oh questo è un problema è molto agile se disturbata può attaccare con feroce altrimenti non ci fa niente macchina cavalcabile oh questo è interessante debole al fuoco ok vediamo i colpi potenti e ci infiliamo nel muro allora vediamo se riusciamo a scendere il focus ok ha delle sacche sulle ali e una in bocca ora ho preso l'unica non ci trova niente ah ok quella con cui fa questo attacco quindi se gliela rompiamo probabilmente perde l'attacco ok ok andiamo avanti così eh se lo vuoi smetterà oh con quanta fatica questi tuffo plano però io ne volevo cavalcare uno ma che cos'è ah i serbatoi che hanno perso i tuffo plano allora noi dobbiamo trovare i superstiti e cercare il cadavere di quello lì ma il cadavere di quello lì ci ha detto quell'altro che è in acqua cos'è questo uccello dove lo andiamo a beccare sarà questo sì ok allora prima salviamo prima salviamo i tizi qua svellochiamo il il falò farò senza darti fuoco tranquilla ok ora i superstiti sono davanti a noi ecco lì noi come saliamo recuperiamo cure siamo messi malissimo a cure ok saltelliamo qua sopra saltelliamo qua sopra c'era anche un modo per slanciarsi ma non mi ricordo più neanche quello allora intanto mentre loro sono presi a soffrire questa doveva essere la spedizione di Enki controllerò ma noi gli freghiamo tutto il fregabile e controlliamo se c'è qualche punto di interesse salve permesso possiamo possiamo venire a controllare come state insomma mi sa che il tipo se ne è andato questi sono morti tutti ormai poveracci si cadavere leggiamo la nota attenzione c'è un temporale pericolosissimo non lo fa leggere allora vediamo se lo troviamo ecco qua un piccolo frammento di pergamento con una sola riga di glifi in guardia rocomo passaparola li ha uccisi rocomo non credo sacchia pelo materiale recuperato e una di queste macchine qua che non me la scansiona allora è uno smeriglio ok esaminiamo lo smeriglio questi quen sono stati attaccati dalle macchine ma hanno resistito per un po' almeno beh meglio di noi sicuramente poi corte rocomo ha detto che si è fatto una zattera di salpare dopo che rocomo ha preso la barca quello è un aereo penso proprio di si gli ha fregato la barca quattro sacca pelo e tre cadaveri no sei sacca pelo ne manca uno i quen bloccati qui costruivano una zattera quando le macchine hanno attaccato Enchi e rocomo erano già fuggiti ma anche un altro quenna si è salvato cercando delle tracce potrai capire dove sono andata no devo cercare le tracce dimini no mannaggia allora deviamo tornare là ne è scappato uno allora torniamo su eccolo eccole in che senso non c'era un'unica serie una ce n'è cosa stai dicendo allora è andato di qui è saltato giù sì anche questo è un aereo spettacolo poi 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 è andato di qua seguiamo il quen misterioso cos'era? ispezione ah ce l'avevamo scordato questo va bene sono tosti sti tuffo con il fatto che vanno sott'acqua non so ma mi puzza secondo me ci creeranno problemi poi 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 ah eccolo ah c'è un coltello esamina esamina è morta pugnalata rocamo mentiva su quanto è successo mi ha fregato la zattera seguiamo le tracce di rocamo quant'anto sta e c'era la zattera da qui è salpata un'imbarcazione eh proprio barca quindi non è morto voglio scambiarci due parole la prima dovrei cercare la nota di carico ho voluto da Enkia inizierei da qualche rovina forse quella torre aggiungi il relito ok che abbiamo visto che perché non mi apre più la mappa è qua quindi recuperiamo la barca che è da questo lato giusto? per lustra la torre ha le cieche della nota ah no aspetta c'è una torre qui e allora esploriamo ah questa torre oh mi è ciecati proprio è buio è buio non si vede ok bravissima ce l'abbiamo fatta ok torna su bravissimo oh ok un po' bruttina questa cosa ma va bene ora c'è qualcosa sopra di noi perfetto lascati cadere bello che ci fa di nuovo una sorta di tutorial anche sull'arrampicata brava bravissima allora è proprio brava per fortuna che c'è questa specie di di balconcino ok brava rispettare che allunga la mano che è allungata la manina saliamo ok saliamo ancora perfetto la nota di carico può essere lì dentro qui dentro il mio proiettore no nel baule ci sono le chiavi vediamo cosa dice il proiettore attiva attiva trovata contiene moltissimi dati ma permetterà di trovare altri focus nella patria del poema ok in che senso e ora cercherò il turbine di cui parlavano posso recuperare il focus di Anki dal relitto sommerso va bene non ho capito cosa abbiamo sbloccato ma ci fidiamo allora attiva questo penso niente riprendiamo la barca e andiamo a vedere ci siamo quasi quel tipo parlava di un tur eccolo il turbine il turbine marino sembra pericoloso la barca di Rocco non è affondata là il focus di Anki potrebbe essere nessuno mi tufferò a distanza di sicurezza lontano ci sono dei detriti aggrovigliati alla corsa il focus di un divinatore forse riesco a prenderlo dalla rete attaccato lo spaccavone in realtà volevo solo capire se potevo buttarmi in acqua ok una lucina recupero il focus eh aspetta vivi in pace evidenza e bersaglio evidenza e traccia cosa il focus sicuramente no cosa stiamo facendo cosa facciamo a prendergli il focus dalla coda dobbiamo aspettare che fa il giro e nuota lì dietro penso proprio di sì proviamo ma siamo lentissimi prendi 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 grande ce l'ha fatta magari adesso ci leviamo fuori dalle scatole perché sennò facciamo brutta fine la nave è ovviamente dall'altro lato se soffrite di talassofobia vi consiglio di non guardare questo video anche perché non riusciamo più a risalire ok ora ricopriamo la nave senza la nave la barca azzattera senza farsi uccidere dallo spaccaonde e il mare qui è abbastanza agitato eh a noi quando vuoi ok no bravissima ora l'obiettivo è parlare con Roccomo che sarà tornato indietro nel frattempo perché l'abbiamo fatto fuggire noi andiamo a fare i nostri primi caos e qua c'è sempre la boa che non so bene quella dice non oltrepassarla ma noi l'abbiamo oltrepassata sia in un verso che nell'altro quindi e adesso ci parliamo stai calma si non penso ci facciano multa per aver messo la nave in doppia fila ultima spiaggia anche per Roccomo dovremmo combattere eh sei tornata vedo eh si tu il problema non in noi vedo che mi hai raggiunto eh l'ultima non è andata bene ho trovato l'isola su cui hai lasciato i tuoi ahia le macchine ne hanno uccisi tre ma il quarto l'hai ucciso tu poi hai portato via Enki e così ora sai la verità all'accampamento ho visto Enki allontanarsi con un soldato li ho seguiti sono riuscito a sentirli parlare di chissà quale nota a quel punto l'alleata di Enki mi ha visto e attaccato non mi ha lasciato scelta tu dovevi spiare Enki questa volta mi è stato ordinato di servire il conformista Reng e Reng sospettava che Enki tramasse qualche cosa eh si perché Enki è il nostro che sono morti tutti tranne te ma mi sfugge qualcosa perché mi hai chiesto di salvarli sapendo che potevo scoprire la verità il contatto della resistenza Enki che ho fatto prima che Enki morisse gli ho chiesto perché non ho lasciato che le macchine mi uccidessero era vera con la parte ci costringiamo a fare delle cose terribili perché pensiamo di non avere alcuna scelta e adesso voglio rimediare ai miei errori hai capito che siamo liberi di scegliere se vuoi davvero fare ammenda ti devi opporre a Reng ti ha messo lui nei guai confessare un crimine è una cosa ma opporsi alla conformità Reng farebbe subito rapporto al nostro ritorno passerei la vita in prigione e tanto passaresti lo stesso eh teoria beh la scelta è tua basta che non lo dimentichi senti al pellicano la dietro e pensaci su d'accordo eh non mi sembra troppo convinto sono stati bravi devono tornare a parlare con la tipa o basta no basta c'è finita la la quest è finita qua in realtà no torno da Teoa e allora torniamo da Teoa poteva dircelo ok torniamo lì attenzione sta succedendo qualcosa qua magari noi è meglio se facessimo i cavoli nostri ogni tanto ecco il mio testimone è stato piuttosto preciso l'ha sentita che complottava col divinatore Enki prima che partisse ma è assurdo quanto hai pagato per queste bugie aspetta questa non è una cosa che ti riguarda selvaggia mi riguarda e come ho trovato Enki e gli altri sono quasi tutti morti a causa della tua ingerenza se anche fosse io non c'entro niente invece c'entri è deciso da che parte stare guarda come arriva sono un esperto di rischi Reng riteneva il divinatore Enki un traditore e così mi ha ordinato di seguirlo quando una dei suoi mi ha scoperto ho protetto la mia copertura come confessare un omicidio in maniera innocente è morto proteggendomi da una macchina non so quali prove abbia renghe contro Tio ma non possono reggere ammiraglio silenzio cinque persone sono morte hai usato un esperto di rischi senza avvisare ma è un mio diritto non ci dice niente idiota nessuno ci sceglie cos'è un un esperto di rischi che tu devi trasferire tutte le risorse segrete al mio comando per non parlare di quanto sia grave influenzare un testimone arrabbiato l'ammiraglio abbiamo fatto fuori renghe è stato anche abbastanza facile pensavo fosse una cosa lunga sei libero preoccupo con me voglio sapere tutto il tuo aiuto è apprezzato straniera prego non c'è di che siamo stati bravi? siamo stati bravi mentre confabuliamo contro il focus di Enki ci troverai la famosa nota usalo per trovare altri focus libera i tuoi dalla conformità ah lei serviva è ciò che vorrebbe Enki tieni questo è tuo cosa ci dà? sei un dono degli antenati straniera eh in un certo senso si cosa ci ha dato? ombra quen abito ah andiamo a vedere ombra quen e qua è buio pesto non si vede niente è bello vabbè classico infiltratrice ovviamente il nostro è meglio però non era ma potremmo usarlo anche come aspetto ma facciamo così mettiamolo come aspetto eccoci così siamo un po' quen anche noi ovviamente adesso si può salire di livello prima eravamo bloccati al 50 una marea di puntabilità un po' di salute che mi fa pensare che ci saranno macchine che ci pesteranno allora se smettete di parlare sto parlando io e allora ragazzi facciamo così ci salutiamo con questo episodio che abbiamo fatto questa missione secondaria abbiamo scoperto i segreti di Rockomo nel prossimo episodio andiamo verso le river denti vediamo proprio qui il cambio di qua c'è erba e qua sembra esserci solo lava no non è vero ci sono alberi andiamo a vedere comunque cosa succederà dall'altro lato io vi ringrazio per essere stati con me in questo episodio mi raccomando lasciate un commento iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e fatemi sapere anche un po' la vostra sul gioco in sé ci vediamo nel prossimo e ciao a tutti da Tito sì fabula